La giornata del ringraziamento, quest'anno si è svolta a Vignola, e sullo sfondo anche di quelle che sono le parole di Papa Francesco della sua enciclica Laudato Si, in che modo? La giornata del ringraziamento tutti gli anni pone un tema particolare di attualità. Quest'anno il tema è il suolo e l'ispirazione proprio sta all'enciclica di Papa Francesco e come sempre è un invito alla responsabilità delle persone a fare ciascuno la propria parte, anche se piccola, anche se nessuno di noi può risolvere i problemi del pianeta, dell'ecologia della Terra, ma tutti si possono impegnare un po' in questo. La giornata del ringraziamento è una giornata rituale, quali sono stati i riti che l'hanno accompagnata? Beh sì, la giornata del ringraziamento nasce come festa del mondo agricolo, era la fine dell'anno agricolo quando tutto si metteva tranquillo in campagna. La festa è proprio per ringraziare Dio dei frutti della Terra e del lavoro dell'uomo. È una festa che nasce in ambito agricolo, quindi partecipano le associazioni del mondo agricolo, ma a Modena da sempre partecipano le cooperative, le ACLI, la CISL e il mondo dell'artigianato. Vengono portati i prodotti della Terra, anche ma prodotti dell'industria, del commercio e vengono portati all'altare come partecipazione all'offertor. E poi c'è una benedizione dei mezzi, che quest'anno è stata molto piccola, simbolica, perché la piazza di Vignola davanti alla chiesa è molto piccola, però è un simbolo di benedizione di tutti gli strumenti di lavoro, di tutte le categorie. Citando la sommelia di oggi, in che modo l'economia del dono può aiutare a rendere il cuore meno arido in contrapposizione all'economia del contatto? L'economia del dono è quella visione che parte appunto dal cuore, prima che dal portafoglio, dalle tasche o dal suolo, secondo la quale solo quando si ha il coraggio di immettere nel circolo delle relazioni la gratuità, si fa davvero un investimento. La logica del dono significa mettere in grado anche chi non lo è, perché non riuscirebbe con le proprie forze ad entrare nel circolo dello scambio, di farlo. E quindi significa alla fine guadagnarci tutti. È in un certo senso un riscontro del detto evangelico secondo il quale c'è più gioia nel dare che nel ricevere, o del detto di Gesù che afferma che non si può operare semplicemente per il contraccambio, ma c'è tutto da guadagnare quando si dona. Per noi ha sempre avuto un grandissimo valore la giornata del ringraziamento, direi nella storia e lo continua a essere oggi e penso anche nel futuro, nel senso che è un momento molto importante perché è il ringraziamento del lavoro eseguito, di una chiusura di un'annata agraria, ma soprattutto ci sono le speranze per la nuova annata agraria. Io personalmente mi sento molto coinvolta in questa celebrazione, ma non solo io, ma anche tutta la mia associazione e le imprese che rappresento. È un momento veramente di grande importanza. Abbiamo tante difficoltà nel mondo agricolo, però un valore c'è ancora rimasto in questi anni, che è quello delle tradizioni, delle tradizioni e dei momenti di raccoglimento intorno alla Chiesa e intorno alla persona del Vescovo appunto in ricorrenze come questa.